La leva dell'innovazione è una leva fondamentale per la crescita economica della nostra città, della nostra area metropolitana, ma anche per sfruttare tutte quelle che sono le grandi potenzialità che noi abbiamo, dalle grandi università, i centri di ricerca, i tanti giovani, i tanti talenti, le tante imprese innovative che abbiamo presenti a Napoli e nella sua area metropolitana. Oggi stiamo vivendo un momento di difficoltà economica, ma anche una grande opportunità di transizione, transizione ambientale, transizione digitale, che ci consente di avere di fronte a noi una sfida che se riusciamo a cogliere costruirà grandi opportunità per i nostri giovani, per il miglioramento della qualità della vita, ma anche della ricchezza economica dei nostri territori. Napoli è stata sempre una città molto innovativa, una città che è stata capace di attrarre tante aziende e noi stiamo lavorando in maniera intensa affinché il Comune sia protagonista di questo processo di attrazione e di trasformazione sia territoriale che del tessuto imprenditoriale. Lo stiamo facendo con un grande impegno, anche attraendo imprese e capitali esteri e sono molto fiducioso che otterremo risultati significativi. Grazie a tutti.